PEGI 3 Qual è la ricetta per un allenamento perfetto? Un mix giusto di potenza e velocità? Delle attività che ti invogliano e ti motivano? I risultati, per sapere se stai svolgendo movimenti correttamente? Con più di 90 ore di attività, Your Shape Fitness Evolved 2012, l'allenamento personalizzato che ti fa raggiungere i tuoi obiettivi. Your Shape Fitness Evolved 2012 Disponibile ora su Kinect per Xbox 360 Sampo